Nel 2022 il 44% delle donne lucane affette da tumore al seno, quindi quasi una su due, è andata ad operarsi in un ospedale di una regione diversa dalla nostra. A commentare il rapporto Svimez e quello di Save the Children sui divari tra nord e sud del paese nel diritto alla salute, il consigliere del gruppo Basilicata Oltre Viziello, che giudica tale percentuale un dato shock che la dice lunga sulla necessità per la Basilicata di un cambio di rotta nei servizi di cura destinati ai pazienti oncologici. Il numero degli interventi effettuati, evidenzia il consigliere, è considerato un indicatore dell'affidabilità e della qualità di una struttura sanitaria per cui anche in Basilicata la politica è chiamata a fare delle scelte per arginare l'eccessiva frammentazione dei servizi recuperando quel rapporto tra volumi ed esiti delle cure che rappresenta chiaramente la soluzione alle criticità della chirurgia oncologica.